Come aggiungere il componente viaggio su Supersite? Vediamolo insieme. All'interno del tuo sito puoi aggiungere delle audioguide gratuitamente tramite la piattaforma di easy.travel. Per aggiungere Easy Travel, clicca a sinistra sulla barra degli elementi. Clicca su Utility, vai su Viaggio e trascina il componente Easy Travel nell'area di lavoro. Clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse per modificarlo. Adesso seleziona l'icona Stile per modificare il carattere dei testi, la dimensione, il colore e il colore dello sfondo. Infine clicca su Avanzate per modificare la località, selezionando la nazione che vuoi mostrare, l'area specifica, la tipologia di guida e il numero di elementi da mostrare all'interno della pagina. Clicca fuori dall'area per salvare automaticamente le modifiche. Grazie a tutti.